Musica Lunedì 22 luglio, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, sono le 7 del mattino e siamo in diretta sul canale 17 di Fanotv per la rassegna stampa, occhio ai giornali come sempre andiamo a vedere prima il santo di oggi, la chiesa ricorda Maria Maddalena, Maria di Magdala sappiamo dal Vangelo che Maria era una donna originaria della città portuale di Magdala sul lago di Tiberiade, affascinata dalla predicazione di Gesù, lo seguì con altre donne non soltanto, ma queste discepole assistevano lui e gli altri discepoli con i loro beni quindi Maria era anche una donna facoltosa tra l'altro ebbe Maria di Magdala la grazia, il privilegio di essere colei che vide per primo Gesù dopo la risurrezione, fu inviata come ambasciatrice appunto della sua risurrezione ai suoi apostoli, agli apostoli il sole è sorto alle 5 e 3 quarti e tramonterà stasera alle 20 e 44 il tempo, avremo oggi giornata di sole anche se ci sarà qualche nuvola soprattutto nell'entroterra e nella costa pesarese, le temperature sono stazionari oppure in lieve diminuzione per la giornata di domani la protezione civile delle marche nel suo bollettino quotidiano prevede cielo sereno poco nuvoloso, le temperature in lieve aumento ancora tempo stabile per il proseguo di questa settimana con probabile cambiamento della tipologia di anticiclone che come abbiamo detto anche la settimana scorsa diventerà di matrice africana tuttavia pur in presenza di aumento del campo termico al momento il versante adriatico potrebbe rimanere sotto l'influsso di correnti settentrionali con conseguente minore impatto rispetto all'aumento delle temperature tradotto dunque significa che la costa adriatica potrebbe beneficiare di queste correnti settentrionali quindi da nord che dovrebbero tenere un po' alla larga questo anticiclone africano e dunque le temperature non dovrebbero salire tantissimo come invece accadrà negli altri posti dove invece l'anticiclone avrà il suo effetto allora questa è la pagina del Corriere Adriatico di Pesaro cominciamo da qui, vanno a ballare con l'auto rubata 5 giovani finiscono nei guai, fermati dalla polizia al ritorno e denunciati per ricettazione questo è accaduto a Fano, lo vedremo tra poco e poi il tamponamento sulla statale adriatica 16 tra Fano e Pesaro alla Crista grave uno scuterista, la donna ha sfondato il lunotto ricoverata ad Ancona con profonde ferite al volto era insieme ad un collega che lavora insieme a lei nei bagni, in uno dei bagni degli stabilimenti balneari lì vicino ed è quella come passeggera che ha avuto la peggio questa invece è la prima pagina del resto del Carlino di Pesaro disco verde per i monopattini elettrici ci si potrà girare in tutta la città di Pesaro e si potranno anche noleggiare e poi a Villa Marina basta degrado il sindaco pronto con un'ordinanza se l'Inps non interviene tra poco vedremo anche la fotografia di come è ridotta Villa Marina l'impalcatura soprattutto cade nella piscina la cronaca dalle Marche e rischia di annegare una bimba di 4 anni ed ora è ricoverata al Salesi e purtroppo è molto grave una bambina di 4 anni poco dopo le 13 di ieri ha rischiato di annegare in una delle piscine del centro vacanze La Risacca all'estremo nord di Porto Sant'Elpidio le sue condizioni sono molto gravi c'è il forte timore che il tempo trascorso senza ossigeno possa aver provocato seri danni agli organi vitali la bambina aveva appena pranzato insieme al padre e al fratello maggiore sarebbe sfuggita per qualche istante all'attenzione del genitore che la stava cercando quando è finita in acqua non è chiaro se abbia accusato un malore forse una congestione avendo mangiato poco prima o non sapendo notare insomma andate in difficoltà un bagnante ha notato questa bambina immobile e ha dato l'allarme questo invece è lo schianto di cui vi parlavo poco fa in apertura con lo scooter donna grave ferito anche un giovane di 27 anni un incidente stradale che è avvenuto ieri mattina 5 minuti dopo le 11 sulla statale adriatica all'altezza della comunità di recupero l'imprevisto uno scooter che in sella aveva due dipendenti dei bagni due palme il giovane Nicola Camponeschi di 27 anni e sul sellino posteriore invece Anna Maria Storoni di 49 anni la quale aveva chiesto un passaggio al suo collega per raggiungere il luogo di lavoro hanno tamponato violentemente una Ford Fiesta che evidentemente ha frenato per qualche ragione la sua marcia improvvisamente sono andati incontro si sono scontrati la donna si è ferita al volto ed è stata portata ad Ancona la cronaca da Fano invece vanno a divertirsi con l'autorubata una comitiva intercettata e denunciata dentro 4 ragazzi o meglio 5 giovani di Fano tra cui un minorenne che devono rispondere di ricettazione stavano guidando una macchina rubata qualche giorno prima ad una donna di Cucurano una signora di Cucurano di Fano che aveva denunciato il furto di questa onda e dentro dicevamo 4 ragazzi ed una ragazza tutti intorno ai 20 anni salvo un minorenne in particolare si tratta di 2 albanesi un romeno e un bielorusso la ragazza invece è italiana e sono tutti residenti a Fano incensurati la famosa e purtroppo famigerata tecnica dell'abbraccio ha ammietuto un'altra vittima una vittima anziana che aveva sospettato che questa donna così elegante così bella così gentile le stesse facendo qualcosa di male ma insomma lui pensava che puntasse al portafogli in realtà la donna dopo aver chiesto delle informazioni stradali le si è buttata il collo e con un gesto repentino fulmineo è riuscito a portare via a quest'uomo la donna la catenina d'oro con il crocifisso e purtroppo sono raggiri d'estate che si moltiplicano molti vanno a vuoto alcuni invece riescono è accaduto sabato scorso in via Fratti a Pesaro dove questa giovane donna descritta come dicevo come cortese elegante è riuscita a derubare la vittima con la collaudata tecnica dell'abbraccio ha chiesto delle indicazioni stradali l'uomo ovviamente gliele ha fornite lei per ringraziarlo lo ha abbracciato gettandogli le braccia al collo il signore si è sospettito questo uomo si è sospettito sentendo noi ogni giorno tutte queste storie di ladre che abbracciano le vittime però lui ha pensato al portafogli l'ha allontanata scrive Luigi Benelli questa mattina sul Corriere Adriatico lo ha allontanata insomma sapeva che stava facendo qualcosa e alla fine quando è tornata a casa si è reso conto che ce l'aveva fatta la donna era riuscita a mettere le mani alla colana d'oro al crocifisso poi si racconta in questo articolo di un tentato furto che è avvenuto nel reparto sportivo dell'Iperconad tu e do una coppia è stata fermata e denunciata dalla polizia questa è un'altra storia che invece arriva da Montecchio è una storia di quelle estive che si raccontano al bar sotto l'ombrellone ma è tutto vero si conoscono lui e lei in una chat quindi su internet vanno a vivere insieme e dopo una settimana di convivenza lei gli chiede di sposarla a quel punto lui però ci ha pensato un po' forse un po' troppo per i gusti di lei e a quel punto finisce in urla schiaffi piatti rotti con tanto di intervento dei carabinieri è successo come dicevamo a Montecchio di Vallefoglia l'uomo è un operaio residente del posto ha invitato lei a vivere con lui la donna non è della zona quindi ha dovuto fare i bagagli ha dovuto fare le valigie decidere di spostarsi di cambiare città di andare con lui evidentemente è stato un colpo di fulmine lei però quando gli ha chiesto di sposarla di fronte al tergiversare di lui è andata su tutte le furie e quindi è cominciata e sono volate parole grosse e non soltanto i carabinieri però sono riusciti a mettere ordine anche se non hanno fatto pace e non si sono querelati a vicenda qui invece andiamo ad Ancona dove il vicino di casa lei non lo sapeva adesso sì era praticamente il suo peggior nemico lo ha scoperto quando sono entrati nello stesso ascensore e lui un uomo di 50 anni straniero si è buttato addosso a lei 40 anni quarantenne e l'ha cominciata ha tentato di baciarla di toccarla insomma nel tempo del tragitto di questo ascensore lui l'ha aspettata nel cortile ha detto alcune parole tipo oggi fa caldo due paroline così tanto per fare il simpatico l'ha accompagnata all'ascensore e una volta dentro è arrivata la violenza lui è stato arrestato ed è stato portato in carcere con l'accusa di tentata violenza sessuale è successo ad Ancona qui siamo invece sulla pagina del Corriere droga sull'autobus diretto in discoteca pugno di ferro sulla movida sequestrati 50 grammi in 100 dosi un giovane preso con un coltello lite sul lungomare eccola qua Villa Marina la spiaggia con vista su questo stabile ricoperto che insomma non è non è non è proprio il massimo ieri il sindaco Ricci è intervenuto dicendo che di auspicare un intervento dell'Inps che è il proprietario dell'immobile in modo da rendere meno degradata diciamo la copertura di tutta questa impalcatura ovviamente il vento ha fatto il suo però insomma è in effetti un brutto biglietto da visita questi sono gli altri due invece brutti biglietti da visita della città di Pesaro scheletri di cemento sulla panoramica e l'edificio ex chief a Portafano sono altre due strutture da da sistemare il comune invece di Pesaro compra palazzi e vende poderi tutti i servizi si trasferiranno nel centro storico sono stati acquistati con mutuo per 900 mila euro tutti questi immobili e entro un anno dice l'assessore Antonello Delle Noci azzereremo il pagamento degli affitti e avremo uffici solo di proprietà questa è la pagina del Corriere con la giungla con il traffico che viene quasi paralizzato durante le ore di punta durante le giornate estive sotto monte l'assalto alla spiaggia di tantissime persone che vanno al mare in macchina c'è stato uno schianto un grave uno scuterista guardate il vetro che è stato rotto da questa donna che viaggiava in sella al motorino con il suo collega l'incidente è avvenuto ieri mattina adesso invece la questione dei sotto dei punti a Pesaro check up per il cavalcaferrovia si comincia con i divieti di sosta da oggi fino a mercoledì non si potrà parcheggiare sotto le tre campate sul lato di Pantano questo è un altro punto rispetto a quello che avevamo visto l'altro giorno che era stato chiuso perché erano caduti dei calcinacci però insomma sono un po' sotto osservazione i punti di Pesaro come Facebook può condizionare le lezioni politiche Tim di Urbino nella ricerca internazionale un gruppo guidato dal professor Giglietto dell'università di Urbino ha preso parte al meeting in California quello organizzato a Facebook nuovi strumenti per accedere ai dati e poi il Jets Village al Fano Jets tra arte e benessere il Jets Village che si trova all'esterno dell'ex carcere è un'anticamera ma è anche il cuore del festival è stato allestito all'esterno della fortezza si anima ad ogni ora con una cultura green ci sono acqua gratuita un angolo di ristoro con prodotti a chilometro zero e di buon'ora si fa anche yoga ma questo ci interessa relativamente a Crepapelle invece alla BCC Arena si sfidano i barzellettieri la serata conclude a Tre Ponti la tipica festa della Cresciamatta ora se volete farvi due risate l'appuntamento è stasera una serata tutta da ridere all'Arena BCC di Tre Ponti dalle 21 si svolgerà infatti il concorso di barzellette a Crepapelle un evento che concluderà la festa della Cresciamatta 11 concorrenti si sfideranno all'ultima battuta 3 minuti a testa nella prima manche ci sarà una giuria ovviamente che valuterà i barzellettieri poi nell'altra manche ci saranno soltanto due minuti e poi insomma un'unica barzelletta per assicurarsi la vittoria quindi si andrà a scalare e l'ospite d'onore questa sera Sarabicio che al secolo si chiama Fabrizio Fenici cosiddetto antidepressivo naturale che in queste settimane sta avendo successo anche sulle reti media Nazionale Azzurra questa è l'ultima pagina della nostra segna stampa di oggi bella e sfortunata ha vinto il Canada ai calci di rigore spettacolo e calore per il Mundial Beach Soccer Marotta del vecchio è il miglior giocatore al terzo posto si classifica l'Argentina Lago segna 5 reti e diventa capo cannoniere è una giornata sicuramente un fine settimana da incorniciare non solamente per lo sport di Marotta perfetta regia della Proloco tanti turisti il sindaco dice mai visto qui un evento di questo genere noi ci fermiamo con la rassegna stampa la lettura dei giornali torna domani mattina ovviamente alle 7 in diretta tra poco ci sarà la Santa Messa da Loreto dalla Santa Casa di Loreto poi le repliche della rassegna stampa questo invece è il vostro numero per le segnalazioni 338 4968 250 grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti